Ciao ragazze, nuovo video outfit, vi faccio l'outfit di oggi che è mercoledì ed è il mio giorno di riposo e sto andando a pranzo con Simone quindi ho voluto fare questo outfit molto molto carino fa caldo anche oggi, abbastanza, non troppo ho tenuto i capelli mossi perché ho detto lasciamo stare, non cerchiamo di risciarli che con questo caldo assurdo sicuramente vanno a diventare orrendi quindi li ho lasciati mossi, li ho ravvivati semplicemente oggi indosso un outfit che mi piace tantissimo con un abito che non avete mai visto perché è un regalo praticamente un abito di Sisley che mi ha regalato mia mamma che gli ha regalato una sua amica, lei nel raptus, nell'impeto del raptus l'ha dato a me, infatti adesso si è già pentita perché l'ha visto indossato oh bello, ormai e allora l'ho voluto mettere, ve lo faccio vedere perché è veramente molto molto bello secondo me aspettate che cerco una posizione un pochino più è che ci sono chiacchiere da tutte le parti, cioè non lo so non riesco a trovare il silenzio e un orario un po' strano per fare video allora, sto facendo il video perché devo andare a pranzo con chi? con mia nonna ma ascolti una cosa vuol dirti eh, sto registrando no, dopo non ti compiù cazzo quella per la borsettina è già la lucina e dopo sono pagata eh, dove? tra le lingue nella stanza degli orrori eh, vai te tanto sei registrata qualsiasi cosa dici cioè, ho cambiato idea vedete che ho visto il vestito lo faccio rivedere qua perché è un orario sbagliatissimo per fare video eh allora, vabbè, questo è il vestito color ciclamino mi piace tantissimo il fatto che sia monospalla è una cosa che io amo perché il monospalla fa dimagrire le braccia sia il monospalla che il taglio particolare con la balza infatti vedete che sembra qua delle braccia super snelle almeno spero che sembri e niente, questa là insomma mi è piaciuta ma ti è di Sisley e non vi so dire di che collezione sia e da dove arrivi perché è appunto stato regalato ho messo su questi sandali qua di pink e argentati molto carini belli aperti e ho fatto un trucco sui toni appunto borgogna, bianco trucco nude sopra vabbè, i sandali ve li ho fatti vedere ve li faccio rivedere così per sdramatizzare visto che sembra un po' magari un outfit ispirato per la sera sembra un po' serale insomma un po' impegnativo vabbè, gli orecchini sono questi qua sono quegli orecchini che fanno super casino che mi piacciono tantissimo arrivano dalla Sicilia di cent'anni fa che me li ha portati mia mamma in regalo quando è andata da sola cioè quando io non c'ero non so avrò avuto c'era dieci anni fa forse anche di più avrò avuto 18-19 anni e ho voluto diciamo sdramatizzarla spero che non sia male quella sdramatizzarla siccome avevo già piena la borsa questa l'ho riutilizzata la mia borsettina di paglia per farlo diventare un pochino un look più da giorno spero che vi piaccia ci vediamo nel prossimo video fatemi sapere nei commenti ovviamente ciao capelli da pazza proprio non guardate ma insomma spero che siano in foto non rendono secondo me dal vivo sono leggermente meglio però in foto sembrano sempre orrendi vabbè in video ciao meno male che poi dal vivo mi dite sempre che sono meglio ciao ciao ciao